Ben trovati con lo spazio a cura di Meteocalabria.net, un nuovo rinforzo dell'anticiclone africano darà vita ad un ulteriore aumento delle temperature, con probabile caldo intenso fra le giornate di mercoledì 7 e venerdì 9 luglio. Martedì 6, in genere sereno, tutto al più localmente poco nuvoloso, venti deboli, martirene, ionio, crotonese, mossi, poco mossi, restanti i bacini. Temperature stazionarie, caldo temporaneamente in media. Calura in accentuazione per mercoledì 7 luglio, difatti la colonina di mercurio tornerà a salire fin verso i 38-39 gradi diurni nelle pianure più interne, ma ricalmi o tutto al più poco mossi. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento.